ok ragazzi ci hanno dato tardissimo il risultato e sono negativo come sapete nulla si intromette tra me e il mio urbex quindi o venerdì o sabato andremo a registrare il nuovo episodio di Italia Abbandonata e niente ho finito la quarantena quindi adesso posso muovermi e niente al prossimo video ciao